Sono i 52 ex lavoratori delle aziende Barilla, Beaservice, Firema Trasporti, Floreamiata, Marlane, CPE, Tecmes, Filivi e MTI i beneficiari della prima concessione e prorroga della mobilità in deroga dal 1 gennaio al 30 aprile 2013. Lo ha deciso il tavolo tecnico presieduto dall'assessore regionale alle attività produttive e lavoro Marcello Pittella costituito dai rappresentanti di regione, sindacati e Italia Lavoro che ha approvato gli elenchi trasmessi dall'Inps relativi agli ex lavoratori aventi diritto all'indenità. Il tavolo tecnico ha così portato a termine il suo lavoro per il riconoscimento della mobilità in deroga già accordato con le parti sociali e datoriali. Non sfugge a nessuno, ha commentato l'assessore Pittella, che l'emergenza quotidiana è e resta il lavoro. Abbiamo raggiunto un risultato che spero possa dare una maggiore serenità a quelle famiglie in difficoltà per la mancanza di lavoro.